Da quando sul sito change.org è stata lanciata la petizione Salviamo il Globo una settimana fa sono già state raccolte 23.000 firme, l'iniziativa è di Elena Tomei per chiedere di salvare dall'abbattimento il teatro voluto da Gigi Proietti a Villa Borghese. Come ricorda il testo dell'appello, il teatro di stampo shakespeariano è nato nel 2003 su idea di Proietti e ha subito un progressivo logoramento fino al 22 settembre del 2022 quando una scala non ha retto al peso di una classe di liceali collassando e travolgendoli furono 12 feriti tra studenti e insegnanti. Da quella mattina il Globo è sotto sequestro da parte della procura e le indicazioni per la riapertura in sicurezza del Globo richiedono interventi ingenti. Nei prossimi giorni il Campidoglio, la fondazione Toti e le figlie di Gigi Proietti dovrebbero incontrarsi per stabilire un piano per salvare la struttura ma per il momento l'unica strada possibile all'orizzonte sembra essere l'abbattimento.